Situazione critica questa mattina in via Roma a Barletta, dove un cittadino avrebbe affermato di essere in procinto di buttarsi giù dal balcone. La minaccia ha attivato subito la macchina dei soccorsi, con l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e dei sanitari. Transennata l'aria per garantire l'incolumità dei passanti, è stato avviato un dialogo con l'uomo, un sessantenne del posto, che dopo la minaccia di compiere l'estremo gesto si è barricato in casa. Tra le cause che avrebbero portato a questa drammatica situazione, secondo le prime indiscrezioni, ci sarebbe un provvedimento di sfratto che sarebbe dovuto avvenire proprio questa mattina. Stando alle informazioni note al momento, l'uomo si sarebbe opposto alla scelta, affermando di non essere stato avvisato. L'intervento degli operatori della Polizia di Stato avrebbe portato l'uomo ad esistere dal suo scopo suicida e a quanto pare anche l'esecuzione dello sfratto sarebbe stata rimandata.